una domanda che mi fate spesso nei miei video è quanto durano le batterie degli iphone e quanto si usurano nel tempo queste batterie cioè compro un iphone ricondizionato o lo compro nuovo mi ritrovo la batteria dopo del tempo magari all'80 85 90 per cento di stato di usura quanto mi dura la batteria nell'arco dell'utilizzo giornaliero beh vi rispondo con questo video lui si è ricaricato alle 7 56 è stato staccato dal caricatore quindi dall'attacco parete e a 2 ore e 11 di schermo acceso quindi lo staccato stamattina prima dell'otto ora sono praticamente quasi le due quindi sei ore di utilizzo con due ore 10 schermo acceso e al 57 per cento di batteria quindi praticamente siamo nell'ordine delle 55 ore e mezzo di display acceso consideriamo però che la batteria è all'87 per di capacità massima quindi ovviamente non è nuova perché è un telefono che ha circa due anni da qui riusciamo a capire che le batterie apple anche se non sono originali perché questa è stata sostituita quindi non è una batteria originale una batteria compatibile sostituita due anni fa quindi è stata elevata l'originale fa girare dispositivo alla stessa identica maniera e invecchia più o meno nella stessa maniera lui offre oggi 5 6 ore se siamo in wifi all'interno possiamo riuscire a fare anche le sei ore e mezza di display acceso se abbiamo una luminosità del display sotto al 40 35 per cento di luminosità io bene mi è tenuto questo smartphone sempre fra il 60 60 per cento di luminosità quindi in 4g plus quindi è ovvio che consumi un cappellino di più e con la batteria usurata all'87 per cento di capacità massima non riesce a superare le cinque ore e mezzo sei in wifi e quindi le cinque in 4g plus è un dispositivo che gira benissimo ora vado oltre alla batteria parlo del dispositivo è un top di gamma vero e proprio anche se non è più attuale nel senso che ovviamente no ha degli anni sulle spalle è di vecchia generazione nella tecnologia sarebbe considerato vecchissimo ma non lo è lui gira benissimo fa degli scatti col punta e scatta da paura io ancora oggi devo trovare un android che mi lascia così tanto soddisfatto nel punta e scatta e lui è vecchiotto quindi non è il 13 pro max che veramente lì ti regala delle sensazioni uniche ma ovviamente si fa pagare quindi consigli oggi di acquistare un ricondizionato anche se la batteria magari è al 90 85 per cento sì indubbiamente sì perché il positivo gira bene il dispositivo comunque ti porta a sera se poi sei un assiduo giocatore beh allora lì magari ti munisce di power bank o addirittura di una power bank wireless e quindi appoggi il telefono lui si ricarica e non hai bisogno neanche del filo non lo sto aggiornando alla 15.4 perché ho paura che possa peggiorare l'ottimizzazione della batteria voi se l'avete aggiornato alla 15.4 fatemi sapere se mi conviene aggiornarlo o no perché non voglio scoprirlo diciamo sulle mie mani fatemi sapere come vi trovate se avete l'X, XS, XS Max se ti è piaciuto il video sai cosa fare ciao al prossimo video